Ciao ragazzi, di nuovo insieme, oggi si va a parlare di note cromatiche, note di approccio cromatico, cromatismi, chiamati in vari modi, sono quelle note che non necessariamente fanno parte dell'accordo in questione, ma che servono per, diciamo, raggiungere la fondamentale o qualsiasi altra nota dell'accordo successivo con una nota cromatica, ovvero un semitono sopra o un semitono sotto alla nota d'ardevo. Facciamo un esempio semplicissimo, due accorgi Do minore, Fa maggiore. Sto suonando Do, Mi bemolle, Sol, quindi tonica, terza, quinta, per arrivare, in questo caso vado sulla tonica dell'accordo successivo, del Fa, posso utilizzare questo elemento cromatico, che sentite non fa parte ovviamente dell'accordo di Do minore, perché suono in Sol bemolle, di una quinta bemolle, che è un semitono sopra al Fa, quindi alla nota di addivo all'accordo successivo, oppure potrei anche, sto suonando tonica, seconda, terza, terza minore, pure tonica, quinta, terza minore, terza maggiore addirittura su un accordo minore, ma funziona perché è una nota cromatica, un cromatismo che mi porta ancora nel Fa. Questa opzione si può utilizzare quando vogliamo, ma non necessariamente come destinazione sulla tonica dell'accordo successivo. Ad esempio potrei utilizzare questo trucchetto, chiamiamolo così, per andare, per esempio, sulla terza del Fa, quindi sulla terza del secondo accordo, quindi potrei suonare questa lena. Do, Mi bemolle, Sol, Sol basis, e arrivo alla terza di Fa. Andiamo a sentire con una base, questa volta ho scelto un standard famosissimo, a tonnezzo, a 150 bpm, e andiamo ad inserire qualche elemento, per ora restiamo ovviamente sul working cordale, quindi cercherò di non suonare le note della scala di riferimento, ma solo tonica, terza, quinta e settima, con l'aggiunta di cromatismo. Grazie a tutti. Sentite, già come il working prende una forma un po' più lineare, quindi scorrevole, grazie appunto questo inserimento dei cromatismi, altrimenti le note di approccio possono anche non essere cromatiche. Ad esempio posso andare su, restiamo un attimo, Do minore e Fa maggiore, posso andare sulla tonica o, come dicevo prima, su qualsiasi altra nota del secondo accordo, arrivandoci ad esempio dalla quinta dell'accordo, oppure dalla terza. Andiamo a vedere. Do, faccio le stesse cose prima, Mi bemolle, in nonca, terza e minore, quinta. Ho suonato un La perché il La è la terza maggiore dell'accordo successivo. Mi. Oppure dalla settima dell'accordo successivo, Mi, in questo caso facciamo Fa maggiore selle, Mi, quindi, è uguale alla nota di approccio cromatico, che è uguale alla nota di approccio cromatico, in questo caso, oppure la quinta. Do, Fa, in questo caso il risuono, praticamente l'ottava. Quindi questa è un'altra opzione che avete, oppure l'approccio cromatico, ma con due note cromatiche, ovvero, per esempio, se voglio andare su Fa, può suonare Do, Re, Do, Re, Do, Re, Oppure Do, Metromole, semitono sotto, semitono sopra, e la nota di addevo, pure. Questa è un'altra opzione che vedrete meglio scritta. Andiamo un attimo con la base, inseriamo anche questi elementi e sentiamo che se il nostro walking comincia a prendere ancora più forma, oltre agli elementi ultimi visti, quindi variazioni ritmiche, eccetera. Grazie a tutti. Eccetera, eccetera. Quindi direi che anche per oggi gli elementi sono tanti. Lavorateci con molta calma, quindi ogni argomento che abbiamo preso dedicateci il più tempo possibile. Divertitevi, perché lo studio è anche divertimento, come il divertimento è anche lo studio. Cambiate ovviamente gli standard, questo è il primo che oggi mi sommette, ma anche uno dei più suonati in assoluto. E poi continueremo con il walking scalare. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!